Sono Nicola Vanzini direttore vendita di Ritec Vision. Ci troviamo nel dipartimento vendita di Ritec. Questo dipartimento in sette area manager seguiamo i clienti nel mondo. Collaboriamo principalmente con il nostro ufficio R&D e con l'ufficio tecnico. Non siamo solo commerciali ma per i nostri clienti siamo dei veri e propri consulenti e con alcuni di loro abbiamo relazioni decennali.